Allora, ciao Andrea, sono Fabio, stamattina riesci a fare lo scherzo della chiamata facendo il fattorino di Delivero per la mancata consegna al villaggio Sereno di due domeniche fa, mamma mia ragazzi praticamente questi avevano ordinato dei panini McDonald's a Delivero e praticamente non sono mai arrivati ragazzi il fattorino parlava solo inglese, abbiamo saputo che l'avrebbe lasciato, ma era uno quindi il panino in traversa quattordicesima l'ordine era partito da McDonald's di Campogrande e soprattutto non hanno ancora rimborsato poi vedi tu cosa devi fare, allora adesso la chiamiamo, speriamo che qualcuno ci risponda ragazzi ma lei come si chiama Andrea? ma non lo so come si chiama, non me l'ha scritto, Cinzia, Conti Cinzia, si chiama Conti Cinzia aspetta, aspetta, otto, 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 via, Conti Cinzia, come fa l'inglese? ma che cos'è? io giro da questo attraverso non trovate mai lei pronto? yes io giro da due settimane che giro questo attraverso panino duro adesso pronto? cinzia? Conti Cinzia? si? e corriere di delivero per panino di McDonald's pronto? si si, so che non è arrivato giusto in tempo e ho preso cazziatone da McDonald's ciao, tavolo, tutto bene? e vabbè, allora ditelo, allora ditelo, cioè, so fare l'inglese, mi sto anche a sforzare, cioè, voglio dire, non ho manco studiato l'inglese io no, pronto, amore, te lo porto il panino, giuro che te lo porto aspetta, Andrea, ti stanno chiamando sotto, togli che fa fastidio e chi è che mi sta chiamando sotto? e non mi chiamate sotto? pronto, Cinzia, mi senti? no, mannaggia, che faccio adesso? ma chi è che mi sta chiamando sotto? butta giù e richiama e vabbè, ragazzi, ma tutto a sta complicazione ma chi è che si permette di chiamarmi mentre sto parlando? Cinzia, scusa me, mi stavano chiamando sotto si senti, com'è sta cosa, dei panini che non sono arrivati? com'è? com'è? buonissimo, guarda, io te lo consiglierei, però e cosa? ma per la dieta me lo consigli? mi fatti portare il panino medonora del libero ah, ah, ok specialmente da uno che parla solo l'inglese e tu non sai l'inglese, chiaramente non vi siete acchiappati in qualche modo non è arrivato gli è andata bene la persona che se l'è trovata in casa ah, beh, gli è andata bene, non ho manco pagato il panino ci mancherebbe quindi tu stai aspettando ancora il rimborso? si è amore, te lo porto io il panino te lo porto io va bene, dai te lo offro io vuoi il maionese, ketchup, vuoi tutto dentro? cosa? tutto, tutto tutto salatina, tutto il cerchiolino, va bene va bene tra un po' arrivo, amore, tra un po' arrivo, va bene va bene se vuoi ti parla anche un po' in inglese se vuoi cosa? va bene guardare l'inglese facciamo questo gioco di ruoli, amore va bene, dai ciao, Cinzia, ciao ciao ti amo già ciao mi vesto da panino mi vesto da panino cosa? ma allora ragazzi questa mi ha sgamato subito, ragazzi c'è troppa gente che ci ascolta, ragazzi noi dobbiamo buttare giù qualcuno come su Facebook sai che arrivi a 5.000 e non puoi più accettare altre persone buttiamo giù un po' di gente, ragazzi per favore un po' di gente che non ci ascolti più grazie grazie perché altrimenti è un casino, ragazzi grazie grazie grazie